Le eccellenze di interdipartimentalità, scusate la parola un po' complicata, ma di strutture che si annettevano tra azienda ospedaliera, ULS16 e IOV. Quindi piccoli segnali continui, piccole gocce che ci hanno fatto determinare questa richiesta di presa di posizione, di riflessione accurata su quello che è il futuro di questa struttura. La Cigelle di Padova lancia l'allarme, lo IOV è in pericolo. Tanti segnali che vedono i sindacalisti, troppi trasferimenti di servizi ad altre sedi, un ridimensionamento che non piace dal punto di vista occupazionale, ma soprattutto dei servizi che vengono meno ai cittadini. Noi siamo preoccupati per un fattore di salute. Quando c'è una struttura che funziona ed è una struttura di eccellenza, smembrarla, portarla, suddividerla, non crea mai qualità. Il sindacato fa un appello alla Regione Veneto perché spieghi come mai venga disatteso, dicono, il piano sociosanitario regionale e perché la provincia di Padova sia così duramente colpita dai tagli. E chiediamo conto alla Regione soprattutto della contraddizione grande di questa realtà che si sviluppa giorno dopo giorno rispetto alla programmazione che direbbe esattamente quello che sosteniamo anche noi.